Buongiorno, io sono Mauro Morani dell'Enea e sono responsabile della rete di uffici territoriali che abbiamo in quasi tutte le regioni italiane. Ovviamente come Enea e come in particolare l'unità di efficienza energetica a cui appartengo abbiamo anche, come sapete, il ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica e nell'ambito di questo ruolo collaboriamo nella definizione di quelle che sono il rapporto annuale per l'efficienza energetica, appunto il RAE, siamo arrivati al terzo rapporto e anche poi vedremo un attimo sul piano di azione per l'efficienza energetica insieme al Ministero e alle regioni. Su questo il RAE ovviamente fa un po' il quadro, definisce individua gli strumenti e ovviamente, come è stato già detto precedentemente, uno degli aspetti più importanti sarà proprio quello che è il monitoraggio poi di queste azioni, la direttiva appunto che si sta applicando, la direttiva 27, individua in questo un aspetto molto importante e ovviamente quindi anche quello che è il quadro, quindi la fotografia un po' della situazione che è stata fatta con l'ultimo rapporto è evidente che ci inquadra e ci dà le indicazioni su quelle che sono poi, che potranno essere le azioni che sono state individuate sia nel piano di azione che sia poi ovviamente anche in quello che è il generale della SEN. Vedete che per quanto riguarda la domanda di energia primaria, i risultati sono il quadro generale, sicuramente è un quadro abbastanza positivo, i risparmi, le efficienze e ci stiamo avvicinando, ovviamente vedremo poi con tutte le difficoltà che diceva anche prima di Santo, per quanto riguarda poi il raggiungimento finale degli obiettivi, però sicuramente siamo su una buona strada, il quadro è abbastanza ottimista e positivo. Vedete che per quanto riguarda i consumi di energia, la domanda di energia primaria siamo ritornati in pratica a quelli che erano le richieste, la domanda del 1997. La stessa cosa abbiamo appunto per quanto riguarda la domanda di energia finale. Vedete bene o male, poi vedremo un attimo nel dettaglio, bene o male in tutti i settori c'è questa tendenza al minor consumo di energia. Per quanto riguarda i settori, il mix, vedete che sicuramente c'è stata un grosso riduzione, o comunque rispetto ai dati del 1997 e rispetto al 2011, un incremento di quelli che sono i consumi nel settore del civile. Siamo passati al 36%, circa al 37% dei consumi totali e questo ovviamente è dovuto a, come più volte si è detto, è dovuto a un maggior consumo di energia, in particolare di energia elettrica, per quanto riguarda ovviamente tutta l'introduzione abbastanza massiccia negli ultimi anni di impianti di raffrescamento. per quanto riguarda l'intensità energetica, anche qui c'è stata una diminuzione rispetto al 2011, sono già dal 2010 già una diminuzione di intensità energetica, nonostante che per esempio dal 2011 al 2012 ci sia stato un decremento del PIL di circa 2.5%. Oltretutto rispetto al discorso, all'indice di intensità energetica, l'Italia si pone anche abbastanza in maniera positiva rispetto a quelli che sono il confronto con i paesi dell'Unione Europea. Vedete che è al di sotto di paesi tipo la Germania e la Francia. Per quanto riguarda il discorso dei settori, vedete qui abbiamo utilizzato l'indice Odex che è un indice derivato da un progetto finanziato dalla Comunità Europea che vede la presenza del lavoro di 27 paesi europei ed è in pratica il consumo energetico per la produzione di beni e servizi in funzione della quantità dei beni e servizi. Vedete che il settore residenziale ha una diminuzione abbastanza costante, c'è stata una diminuzione anche per quanto riguarda il settore industriale, mentre per quanto riguarda i trasporti l'andamento è abbastanza altalenante e addirittura dal 2010 al 2011 c'è stato un incremento dei consumi. Qui vediamo un attimo per quanto riguarda i vari meccanismi, i vari sistemi che sono stati utilizzati per raggiungere quegli obiettivi e vediamo che nei vari settori, nel residenziale terziario industrie e trasporti, qui abbiamo preso in considerazione il decreto legislativo 192, i certificati bianchi, le detestazioni fiscali al 55% e le consenti di regolamento. Vedete che il risparmio energetico totale è di 73.279 megatep e, come si diceva prima, questo è sicuramente un ottimo risultato perché siamo circa al 60% di quelli che sono gli obiettivi al 2016. Però è chiaro che questo significa che dobbiamo lavorare su un 40% in due anni e la cosa non è assolutamente semplice. Vedete anche qui si è ottenuto per quanto riguarda il residenziale un incremento di quelli che sono i risparmi. Questo solo per farvi capire qual è l'importanza dell'efficienza, cioè si è visto che per finanziare attraverso, ad esempio, il conto energia, la produzione di 47.000 gigawattora hanno risparmiati, occorrerebbero circa 15 miliardi di euro l'anno. Il costo sostenuto invece per raggiungere questi obiettivi con i vari sistemi di incentivazione sono delle detrazioni fiscali circa 10 miliardi e certificati bianchi circa 4, 4,5 per tutto, per raggiungere quel risultato. Quindi capite che effettivamente anche dal punto di vista economico il discorso dell'efficienza energetica è un discorso importante. Qui solo per farvi vedere l'efficacia degli strumenti. È chiaro che quello dei certificati bianchi ha un costo per risultati ottenuti molto elevato. Anche l'addedazione del 55% è buona, però è chiaro che quello dei certificati bianchi è il sistema economicamente più vantaggioso. Per quanto riguarda in particolare il discorso delle detrazioni fiscali, vedete qui i risultati che si sono ottenuti in funzione ovviamente dei varie tipologie di intervento e questo è abbastanza interessante perché poi ovviamente anche la tendenza è quella di voler lasciare questo tipo di strumento, però è chiaro che se ne sta discutendo anche per ovviamente rispetto ai risultati che si sono ottenuti, cercare di rimodularlo e rivederlo un attimo. Vedete che i due terzi degli investimenti sono per recupero del patrimonio esistente, ovviamente qui sono stati investiti 14 miliardi in investimenti attivati di cui circa 3 miliardi per la riqualificazione energetica e facendo una valutazione su quello che ha messo in moto questo tipo di meccanismo per quanto riguarda anche il livello di occupazione, vedete che ci è stata una valutazione di circa 207 mila occupati diretti e 311 mila complessivi impiegati per tutti gli interventi incentivati, quindi alla fine diventano 44 mila diretti e 67 mila complessivi per la riqualificazione energetica. E qui diciamo è soltanto una slide che fa capire quello che effettivamente diciamo perché effettivamente anche nel settore ovviamente sull'esistente, nel settore dell'edilizia sicuramente il margine di intervento è molto elevato, però è chiaro che andare a intervenire sul discorso dell'edilizia per la maggior parte, adesso poi con la direttiva 27 vedete c'è un grosso ruolo che dovrà avere la pubblica amministrazione sia centrale che locale sul patrimonio edilizio di proprietà appunto della pubblica amministrazione, però è chiaro diciamo la maggior parte del patrimonio su cui si dovrebbe intervenire è un patrimonio privato, per cui è evidente che il fattore della crisi economica comunque porta delle problematiche importanti. Infatti non a caso quest'anno ad esempio si sono ottenuti circa 527 mila domande per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55%, però è un dato che ha avuto una ripresa in quest'anno, però diciamo in questi anni appunto dove purtroppo c'è stata la crisi è evidente che ha avuto una forte riduzione. Insieme al Ministero e alla Confindustria stiamo elaborando perché sempre per un discorso diciamo di conoscenza e di percezione, perché ovviamente il discorso dell'efficienza energetica sicuramente verrà fuori da tutti gli interventi che verranno anche dopo di me, è un problema anche molto culturale e di comportamento, per cui è evidente che diciamo andare ad analizzare anche certe percezioni di quelle che sono appunto e di quelle che diciamo sono anche le valutazioni degli operatori del settore è molto importante. L'Enea appunto insieme al Ministero e alla Confindustria ha messo in piedi diciamo un monitoraggio tramite un questionario che è stato appunto divulgato a tutte le imprese per capire quello che ovviamente sono diciamo è la percezione e quale sono le problematiche per raggiungere certi obiettivi dal punto di vista degli operatori. È stato un questionario dove appunto vedete sono identificazioni dei prodotti e dei servizi per l'efficienza energetica, analisi strutturale intera impresa, sono cinque diciamo settori che sono stati valutati. I primi risultati vedete che sono appunto la percezione che c'è la necessità molto forte di innovazione di prodotto e innovazione di processo, poi dopo qui ci sono... vedete che ovviamente un aspetto molto importante è evidenziato nella semplificazione delle procedure amministrative e chiarezza normativa, questo è un altro aspetto molto importante, lo stiamo verificando e sicuramente sta portando diciamo delle grosse problematiche ad esempio con i decreti applicativi che sono stati emanati l'anno scorso nel 74 per quanto riguarda il sistema degli impianti termici invece il 75 per quanto riguarda l'attestato di sistema per l'attestato di prestazione energetica evidentemente diciamo l'applicazione poi a livello locale regionale sta comportando delle problematiche perché ovviamente diciamo purtroppo i decreti danno adito a interpretazioni diverse per cui c'è la necessità proprio di avere questa diciamo armonizzazione poi per l'applicazione sul territorio nazionale molto importante. Ovviamente poi anche il sistema degli incentivi eccetera. poi altro aspetto invece qui appunto sono altri dati che sono il tasso di crescita del mercato questi sono diciamo altri dati, questi sono risultati preliminari dell'indagine che diciamo sta in fase di elaborazione. Per quanto riguarda invece le tecnologie ovviamente siamo molto legati a quello che è la strategy energy technology plan cioè il set plan a livello europeo che ovviamente sta definendo quelle che sono le tecnologie mature da utilizzare appunto nell'ambito degli interventi di efficienza energetica e quelle che sono appunto gli aspetti della ricerca. Ci sono vari diciamo strumenti di gestione anche per l'aggiornamento di questo set plan sono lo steering group, l'european industrial initiative poi ci sta, sì ok chiudo e poi ci sono vedete questi altri due diciamo gruppi su cui si sta lavorando e che dove l'Enea è presente ovviamente con dei colleghi. si sta definendo anche sull'innovazione e le tecnologie energetiche si sta consolidando una maggiore integrazione e richiede la predisposizione di una roadmap integrata che riguardi l'intera catena di ricerca e innovazione della ricerca di base alla dimostrazione al sostegno fino ad arrivare all'immissione sul mercato. questo è stato il concetto che ovviamente è stato ripreso anche nella SEN e qui lo vedete fa riferimento alla SEN, fa proprio riferimento alla set plan. Qui sono degli strumenti che l'Enea ha messo a disposizione proprio per questo discorso anche di informazione e di mettersi al servizio appunto degli operatori abbiamo il sito dell'obiettivo efficienza energetica c'è un blog per quanto riguarda i certificati bianchi che appunto si unisce già al servizio che sta facendo il FIRE per quanto riguarda la possibilità di informazione agli operatori del settore abbiamo il portale ovviamente quello sull'eterrazione 55% c'è una summer school che stiamo facendo e poi abbiamo secondo noi un aspetto molto importante proprio in funzione di quello che si diceva prima cioè coprire tutta la catena e la parte diciamo di coinvolgimento è assolutamente importante è stato diciamo ideato un coinvolgimento quindi una consultazione su cinque proposte vedete, semplificazione, finanziabilità ecc. e diciamo i risultati di questa consultazione è aperta ovviamente a tutti verranno presentati adesso all'evento che ci sarà a Verona sulla fiera dell'efficienza energetica ovviamente un aspetto importante e che teniamo particolarmente è quello che le regioni e lo vedrete anche nella direttiva 27 assumono ovviamente un ruolo molto importante e ovviamente anche nell'ambito di questo settore cerchiamo di metterci al servizio in particolare stiamo facendo insieme al Ministero e alle regioni stesse appunto un'azione diciamo di cercare di omogenizzare l'applicazione di queste normative su tutto il territorio nazionale e la cosa non è semplice perché ovviamente poi ci sono varie problematiche è stato ovviamente anche qui proprio per vedere diciamo l'importanza della penetrazione delle politiche di efficienza energetica è stato ideato appunto un indice regionale che vedete qui adesso senza entrare in merito visto il tempo che si sta restringendo e rispetto a queste normative ovviamente c'è una performance un ranking finale che è dato vedete diciamo da questo indice che ci dice appunto come le performance regionali ci dà una valutazione diciamo del performance regionale rispetto all'efficienza energetica questa è una delle regioni rispetto all'indice ovviamente nazionale ovviamente come vi dicevo prima e questa è una cosa abbastanza importante si è lavorato insieme sul piano di azione per l'efficienza energetica del 2014 che in questo momento entro il 15 giugno sta in consultazione e entro il 15 giugno si dovranno appunto avere le osservazioni questo è lo spot che è stato fatto per il semestre europeo quindi per farvi capire che l'efficienza energetica ovviamente è molto importante vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti